eh cedo la parola a Barbara David, sovrintendente nazionale per il patrimonio culturale subacqueo che ringrazio perché anche lei oggi sarà impegnata e penso che dopo l'intervento dovrà fuggire e prendere un treno per Taranto perché a Taranto sono in corso altre attività delle per le giornate eh europee dell'archeologia eh l'intervento eh ha il titolo di promuovere il patrimonio culturale subacqueo alcuni casi di studio. Prego. Grazie eh grazie a tutti di essere qui e grazie per avermi invitato eh partecipo con piacere alle attività dell'Istituto Centrale eh per l'archeologia perché eh anche prima di diventare sovrintendente per un po' di anni ho lavorato eh insieme eh eh per l'archeologia subacquea all'interno dell'istituto quindi il mio eh eh particolare affetto è sempre presente quindi io eh sono venuta anche un po' sulle forze ma sono qui per presentarvi un un dei casi di studio eh relativi al patrimonio culturale subacqueo che eh come potete immaginare è un eh un patrimonio eh che ha un fascino proprio perché si trova sott'acqua particolare unico che lo rende unico ma che nello stesso tempo rende ancora più difficile comunicarlo in un modo scientifico eh perché spesso si più che per altre tipologie del patrimonio culturale spesso si diventiamo eh gli Indiana Jones del mare il patrimonio subacqueo è sempre il tesoro eh i tesori sommersi quindi eh riuscire a comunicare eh in un modo gradevole e coinvolgente a tanti vari tipi di pubblico questo tipo eh di eh patrimonio non non è a volte facile quindi io vi ho vi ho presentato qui una serie di eh programmi con solo un paio di slide per inquadrarvi velocemente la soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo perché ho l'onore e l'onere di dirigere dal momento della sua istituzione che è la a dicembre del duemilaventi quindi è un istituto nuovo quindi per questo forse ancora poco conosciuto e quindi ehm di che cosa eh ci occupiamo? Ci occupiamo di tutela, di catalogazione, ricerca, conservazione in situ, valorizzazione del patrimonio eh culturale subacqueo che è esteso nel mare e nei eh lungo gli circa ottomila chilometri di costa e settemila cinquecento fiumi, trecentocinquanta laghi, ecco, è veramente un patrimonio immenso che ehm eh sul quale noi siamo impegnati naturalmente in raccordo con le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio che sono eh presenti nei nostri territori e con le quali siamo in stretto rapporto soprattutto per la parte della tutela. Poi come programmi, progetti abbiamo eh come eh soprintendenza dedicato le nostre forze al alcuni programmi sul patrimonio culturale subacqueo nazionale a progetti internazionali per lo studio e la valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo attraverso come vedrete progetti europei e eh eh cooperazioni internazionali e poi la mia soprintendenza si occupa anche del patrimonio culturale di Taranto e della provincia perché ho un ruolo di sub up di diciamo di soprintendente terrestre tra virgolette per il territorio di Taranto e provincia. La è importante la la catalogazione, la gioreferenziazione e mh del del patrimonio perché sapere dov'è e che cosa è ci permette poi di farlo conoscere e di proteggerlo. Quindi siamo abbiamo un ruolo ehm importante per questo settore all'interno della pianificazione dello spazio marittimo grande progetto multi eh multi eh ministeriale e che vede poi anche la partecipazione della direzione generale con eh l'ufficio dedicato al paesaggio e poi alla catalogazione per la catalogazione abbiamo creato una mh scheda del rischio del patrimonio subacqueo nell'ambito della carta del rischio e collaboriamo credere cercando di rendere interoperabili tutti con tutti gli istituti che si occupano di catalogazione del patrimonio per eh proprio fare sì che senza creare un nuovo GIS e nei GIS del Ministero della Cultura il patrimonio subacqueo sia schedato eh e sia presente in modo eh omogeneo quindi si comincia a schedare dalla scheda dell'ICCD e a cascata e eh i dati principali di ogni sito vanno a finire nel geoportale nella carta del rischio e nei vari altri GIS. È un lavoro difficile eh eh qualcuno annuisce perché capisce il eh la la portata non è banale l'inter operabilità è complessa però ecco io ci credo molto in questo e quindi mi sono sforzata fin dall'inizio. Lo spazio marittimo è una progettazione del nostro eh dell'uso del mare e quindi capite bene come in questa fase del nostro paese è importante eh essere sul sul posto. Ehm i progetti eh il progetto principale di valorizzazione del eh di promozione del patrimonio culturale subacqueo che eh finanziato dal nostro ministero è eh il progetto anfitrite un progetto che ho intitolato l'archeologia subacquea per tutti nei parchi subacquei digitali e che è un po' ehm ehm ci permetterà è iniziato da due anni si concluderà fra l'anno prossimo e eh l'inizio del duemila venticinque ci permetterà di mettere in rete ehm eh il patrimonio eh culturale subacqueo presente in cinque aree merine protette le vedete qui elencate Portofino in Liguria Baia nei Campi Fregrei Caporizzuto in Calabria Capotesta Punta Falcone in Sardegna e le le Isole Tremiti e e questi eh siti saranno poi messi in eh rete anche con altri siti nei quali ho lavorato nella mia vita passata quando era all'Istituto Centrale del Restauro ehm con un progetto che poi ehm vi presenterò e che continua anche eh sotto la mia direzione di soprintendente nazionale il progetto Musas Musei di archeologia subacquea quindi ehm l'idea è quella di cercare di aprire eh questo patrimonio che non eh ehm eh può essere visitato in sito soltanto da una piccola fetta della popolazione eh che ha il brevetto subacqueo ma eh di aprirla anche a chi non va sott'acqua e come attraverso l'uso delle nuove tecnologie ma anche le visite subacquee vedrete noi le abbiamo pensate grazie alla collaborazione attraverso parternariati per l'innovazione attraverso eh progetti di ricerca con università eh in particolare con l'Università Sapienza di Roma la WV Sense è una spin off della di di Sapienza e con l'Università della Calabria la 3D Research un'altra spin off quindi giovani ricercatori che hanno investito eh loro le il loro tempo e le loro idee per eh inventare veramente dei nuovi sistemi di visita sott'acqua e mh e in questo modo noi creeremo dei parchi digitali parchi digitali ehm che sono già in eh stati realizzati a a Baia e a Ignazia in Puglia per il porto romano eh di Ignazia e a Baia e che eh eh estenderemo anche con nuovi dispositivi nel progetto Anfitrite. I nuovi dispositivi che che utilizzeremo con Anfitrite sono anche delle audioguide eh che ehm ci permetteranno di ehm portare sott'acqua e eh e di accompagnare nella visita subacquea anche e per esempio i non vedenti oltre naturalmente ai normodotati insomma diciamo anche i non vedenti avranno la possibilità con queste audioguide di eh eh avere un'esperienza eh 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 maggiore del eh e più eh approfondita del sito subacqueo. Ecco ehm con queste sono le parole chiave di questo progetto Anfitrite il turismo ma la tecnologia ehm lo studio il monitoraggio eh il restauro perché con questo progetto noi facciamo scavi sott'acqua e facciamo anche restauri. Qui brevemente quello che facciamo incrementare i dati del GIS monitorare e adottare le soluzioni per proteggere i siti subacquei e interventi conservativi e la promozione. La promozione è creando visite reali e virtuali sia nei musei sia nei musei subacquei. Ehm eh faremo degli scavi anche ad alta profondità in particolare nell'area marina protetta di Portofino su un relitto eh di prima età imperiale e su un relitto eh di età rinascimentale e siamo adesso impegnati sul relitto del Lombardo eh nelle isole Tremiti quindi non soltanto eh l'archeologia subacquea non è soltanto Baia le strutture sommerse e i relitti di età romana ma cerchiamo di far conoscere anche dei eh testimonianze importanti della nostra storia pur recente come per esempio questo del piroscafo Lombardo che è naufragato nel mille ottocentosessantaquattro a largo dell'isola di San Domino alle Tremiti e che è un piroscafo a vapore quindi con una tecnologia che è anche interessante da studiare ehm eh dal punto di vista proprio dell'architettura navale ehm e che ha avuto un ruolo nel nel nello sbargo dei nello sbarco dei mille perché ha trasportato un contingente Garibaldino quindi ecco ehm di di questa nave sappiamo molto ma chi va a fare l'immersione alle Tremiti non sa eh sa poco quindi cerchiamo di raccontagliolo cercheremo di raccontaglielo ma andiamo sui relitti profondi quindi andiamo sui relitti romani sui siti sommersi ma anche su siti che sono costieri come per esempio i mh le 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 cave di Capotesta presenti insieme ad altri relitti nella eh nell'area marina e in Sardegna quella di Capotesta dove mh eh sono presenti queste eh importanti testimonianze delle cave di di granito d'età di età romana che raccontano la tecnologia il trasporto il commercio mille storie si possono raccontare eh su questi resti e che però sono così mh lì eh e muti e con le persone che mettono gli asciugamani sol e sapete quanto è frequentata la Sardegna senza rendersi conto del eh del di dove di dove si trovano che cosa hanno eh questo perché perché non c'è un racconto sul posto non c'è un cartello non c'è veramente eh c'è pochissimo invece con l'area marina e con la sovrintendenza abbiamo stiamo eh realizzando dei programmi e dei progetti all'interno di anfitrite per ehm rendere anche queste questi questi siti dei siti ehm così parlanti. Adesso eh vi faccio vedere Baia perché Baia naturalmente è un è un sito di di grande eh rilevanza per l'archeologia subacquea italiana tra l'altro vi comunico che proprio eh eh due giorni fa ero all'UNESCO e Baia è stata accolta come buona pratica quindi del del tra le buone pratiche della convenzione UNESCO duemila uno per il patrimonio culturale subacqueo quindi è un è un sito veramente di grande importanza qui io lavoro da moltissimi anni anche eh con quando ero all'istituto centrale del restauro con Roberto Petriaggi che aveva eh che ha ideato e diretto per tanti anni fino alla sua pensione il progetto restaurare sott'acqua qui vedete uno dei siti del progetto anfitrite la villa con ingresso a Protiro dove ehm abbiamo svolto l'anno scorso lo scavo di una eh dell'atrio eh della villa che eccolo qua è questo e dove eh entro l'anno completeremo lo scavo di questa invece di quest'ambiente pavimentato con una scena di lotta e che eh fa parte una poditerium di un complesso termale eh accanto costruito accanto alla villa con ingresso a Protiro questa è la villa questo è il grande giardino della villa nell'atrio lo scavo dell'atrio ci aspettavamo di trovare un atrio appunto con un impluvium e invece eh ci ha restituito una bellissima fontana monumentale di cui vi voglio mostrare velocemente le immagini e fontana il cui scavo è stato uno scavo aperto al pubblico noi abbiamo accolto i subacquei durante l'attività di scavo vedete ha una forma molto originale con queste mh vasche eh semi lunate forse il volume è un po' alto mi scuso ecco ma lo possono grazie così io io parlo sopra e decorare rivestita di marmo con vasche in cui passava l'acqua e sono rivestite di marmo e vasche invece che dovevano accogliere delle fioriere dobbiamo immaginare delle piante acquatiche delle piante qui vedete dei momenti dello scavo che come vi dicevo è stato anche per qualche giorno d'accordo con il parco insomma abbiamo accolto i visitatori in sicurezza tenendoli eh a distanza e qui vedete ancora sono ben conservati i le i tubi di adduzione dell'acqua quindi stiamo studiando eh tutto il sistema proprio di ehm eh di 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 funzionamento di questa fontana vado avanti perché purtroppo non abbiamo molto tempo questo è il il pavimento a mosaico che eh completeremo il cui scavo completeremo lo il prossimo prossima settembre se se tutto va bene e mh e e adesso vi voglio mostrare questa tecnologie che utilizziamo per ehm rendere eh per rendere queste questi siti sommersi fruibili in un modo ancora più completo perché vedete molte delle strutture sommerse di Baia non sono restaurate sono le i muri sono coperti dalla vegetazione i i mosaici per esempio sono visibili ma solo sono coperti sono protetti dopo il restauro possono essere visibili in parte teniamo aperte delle finestre con la sabbia e i diving accompagnano i visitatori e con le finestre le spostano la sabbia e fanno vedere una parte del mosaico ma il 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 visitatore evidentemente non riesce soprattutto quello poco esperto non riesce ad avere un'idea generale di un'area anche vasta e quindi con grazie al l'internet sul bacqueo si chiama l'internet of underwater things che prevede attraverso l'onde acustiche il posizionamento di sensori e eh collegati con eh il subacqueo e il il tablet eh permette di nuotare come usare utilizzando un GPS e di trovarsi di fronte a una struttura antica e vedere intendogando il tablet com'era in passato conoscere brevi eh dati datazione descrizione poche righe non è moltissimo però questo gli permette di fare una una visita più approfondita e di conoscere devo andare avanti ecco e di orientarsi anche all'interno del dell'area archeologica vedete questa è una pianta schematica e io posso nuotare spostarmi e capire la complessità dell'area e individuare quindi la zona che voglio andare a esplorare e poi posso naturalmente eh a chiedere eh al al tablet alcune informazioni questa è una ricostruzione per esempio del ninfeo di punta dell'epitaffio con la ripresentazione di come doveva essere in età antica mh e questo aiuta molto e qui invece com'è la pianta e e poi uno naturalmente davanti a il eh il l'originale no? Quindi poi si può soffermare sui resti. Ecco questo avviene attraverso una rete di nodi sensori che viene eh posizionata e che permette questa visita eh digitale e creeremo un percorso di questo tipo anche a Saturo dove ehm un sito ehm di grande importanza per la città di Taranto le origini della di Taranto importante per la Magna Greca c'è anche una villa romana insomma non mi posso dilungare su Saturo se no c'è da parlare per per ore ma ehm a a a mare sono presente un relitto con un carico di eh mattoni di eh materiale costruzione eh e e anche un un particolare interessante molo frangifrutti ed ecco in quest'area creeremo un altro percorso ehm così digitale. Ehm quindi questo è il racconto per i subacquei ma per chi non va e e tutti questi contenuti sono invece anche eh raccontati nei vari musei nel museo dei Campi Fregrei nel museo del Gnazia e quindi le la realtà aumentata è possibile eh averla il contenuto che c'è nel tablet è possibile di averlo nel museo ma per quei siti che non sono musei che non hanno quindi un contorno come per esempio questo del il Banco Scherchi eh un 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 sito che noi abbiamo esplorato nella nell'ambito di una eh missione multilaterale nel quadro eh sottoleggita dell'UNESCO e che ha visto la Tunisia e l'Italia coordinare nelle rispettive piattaforme continentali le ehm ehm le ricerche subacquee con una nave della ehm eh data dal dipartimento di archeologia subacquea dal DRASM eh del Ministero della Cultura Francese una nave oceanografica dedicata all'archeologia subacquea e abbiamo esplorato in alti fondali a ottocento metri settecento metri cinquecento metri questi siti ecco come raccontarli al pubblico attraverso un video ma anche attraverso delle eh ricostruzioni 3D dei di questi relitti dei modelli 3D che permettono di ehm 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 di avvicinare e di eh costruire nel nel dettaglio il carico la storia dei singoli reperti che possono essere in qualche modo poi ehm ehm raccontati in un modo diverso e questo tipo di ehm eh di ricostruzione 3D delle immagini che è stato realizzato utilizzando le immagini scattate da ROV durante eh il i lavori di esplorazione ecco ehm ci è stato ci è molto utile perché ci permette poi di studiare eh da remoto quando siamo tornati a casa in questi eh la ricerca è durata tre giorni quindi sono stati giorni eh in cui si è lavorato giorno e notte e poi si può mh eh utilizzare questo materiale per andare avanti lo stesso per eh avere poi i risultati eh scientifici lo stesso avviene con ehm eh altri reperti come per esempio questi del relitto altarcaico del canale d'Otranto che ehm sono stati recuperati nell'ambito di un'attività di archeologia preventiva a settecentottanta metri di profondità e che grazie a un eh supporto del di TAP eh eh abbiamo restaurato e che il venti eh eh in ehm presentiamo in una mostra in una mostra ehm che abbiamo voluto eh immersiva e eh queste sono le le ultimi sopralluoghi che abbiamo fatto con la Marina Militare per eh progettare la campagna di indagini che eh ci permetterà di recuperare il resto del carico eh il prossimo autunno ecco però vi do così un anteprima di questa di questa mostra recuperati dagli abissi nel quale proprio abbiamo voluto eh far sì che il il nostro pubblico venisse a fare un'immersione a settecentottanta metri nella nostra sede di via viola a a Taranto ecco un un modo per avvicinare il il pubblico eh e soprattutto il i i giovani e per questo abbiamo anche eh realizzato dei rilievi 3D che mh dei singoli reperti che verranno proiettati su un video e che potranno essere ingranditi e eh spostati girati e mh analizzati proprio da il dal dal pubblico e dai ragazzi per vedere e toccare quello che è nelle vetrine e che loro non possono toccare e mh Barbara siamo vicini alla fine siamo finiti sì sì eh no perché io non non riesco ad interromperti perché poi ci presenti queste cose meravigliose e quindi non ho non ho proprio cuore ma vedi che eh io sono mi ero tarata sui venti minuti e venti minuti ho tenuto quindi ehm questo però vorrei proprio se mi permetti una la conclusione e queste idee così che vi ho proposto veramente velocemente sono anche sviluppate in un progetto che non vi ho presentato perché ancora ehm abbiamo appena iniziato ma che vi prego se siete interessati a questi temi di seguire su ehm su nostri social insomma sul nostro sito web si chiama Crea Mare e e vette eh questo progetto in collaborazione a lavorare insieme i creativi della comunicazione con gli archeologi e attraverso ehm il confronto continuo che noi abbiamo con questo eh in questo progetto stiamo creando dei serious game dei 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 giochi ehm ehm scientifici ma eh divulgativi per eh avvicinare per far imparare anche non soltanto per far conoscere quindi ehm per presentare in un modo ehm ehm allo spettatore passivo ma per invece coinvolgere e far apprendere le giovani generazioni eh il patrimonio culturale subacqueo e la nostra storia quindi vi aspetto anche sul visitate il nostro progetto Crea Mare e vi vi ringrazio per l'attenzione sono naturalmente a disposizione per le domande se avete grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.